Prima le buone notizie. Il mondo scoppia di salute. C'è una guerra civile in Russia. Il governo lealista lotta contro i ribelli ultranazionalisti e ci sono 15.000 testate nucleari in ballo. E' solita persona. Khaled Al-Azhar. Al momento è il secondo uomo più potente del Medio Oriente. Si dice che abbia la stoppa per essere il capo. L'intelligence lo sta tenendo d'occhio. E' la cattiva notizia? A oggi abbiamo con noi un nuovo uomo, fresco dal reclutamento. Si chiama Sopas. Piacere di vederti, amico. Prendi un fucile dal tavolo. Sai bene cosa fare. Vai alla postazione 1 e punta il fucile sul bersaglio. Spara i bersagli utilizzando solo il mirino a video. Ora non usare il mirino. Ora punta il fucile sul bersaglio, Sop. Ora spara puntando ciascun bersaglio tramite il mirino metallico. Maschererò i bersagli con dei pannelli di compensato. I proiettili in dotazione sono in grado di perforare legno, gesso e lastre metalliche. Devi colpire i bersagli sparandovi attraverso. Bene. Ora farò comparire i bersagli uno alla volta. Colpisceli tutti più rapidamente che puoi. Davvero ben fatto, amico. Ora prendi un'arma secondaria. Bene. Ora passa il fucile. Estrai l'arma secondaria. Ricorda, ricaricare richiede sempre più tempo che passare alla pistola. Vai prima a usare il coltello che a passare alla pistola. Colpisci il cocomero. Molto bene. Te la cavi bene con la frutta. Il capitano Price vuole vederti. Il capitano Price vuole vederti. Il nuovo è arrivato, signore. Ci vada piano, signore. È il suo primo giorno nel reggimento. Ok. Ma che cazzo di nome è, Sop? Come ha fatto uno come te a passare la selezione? Sop, ora tocca a te sostenere la prova a CQB. Tutti gli altri osservino. In questo test, completerai il percorso mercantile da solo e in 60 secondi. Al momento il record è di gas. 19 secondi. Buona fortuna. Sali sulla scala laggiù. Prendi quell'MP5 e quattro granate. Al mio via, calati sul ponte con la fune e corri alla posizione 1. Dopo scendi le scale fino alla posizione 2. Infine, passa per le posizioni 3 e 4 eseguendo i miei ordini a ogni tappa. Prendi la fune quando sei pronto. Via, via, via! Colpisci i bersagli! Posizione 2, via! Colpisci i bersagli! Granata attraverso la porta! Posizione 4, colpisci i bersagli! Posizione 5, via! Colpisci i bersagli! Alla 6! Granata attraverso la porta! Colpisci i bersagli! All'ultima posizione! Corri fino alla fine! Niente male, Sop. Ma ho visto di meglio. Sali la scala se vuoi riprovare. Altrimenti vieni qui ai monitor per il debriefing. Signori, l'operazione mercantile sta per iniziare. Preparatevi. Si parte alle 0200. Potete andare.